cari amiche e cari amici buongiorno ci sono poche cose nella vita che cumulano uno straordinario numero di luoghi comuni come la guerra sulla guerra si dicono una quantità di scemenze infinite impossibile farne un vero e proprio dizionario Flaubert fece il dizionario ai luoghi comuni e se la cavò con circa 170-180 pagine ma se dovessimo fare un dizionario ai luoghi comuni sulla guerra specifico e faremmo un volume della Treccani beh nell'impossibilità di elencarli tutti ci limiteremo a commentare alcuni dei luoghi comuni più diffusi e più stupidi il primo è questo è un luogo comune per il quale la guerra è follia e pazzia questo perché l'idea è siccome la guerra provoca distruzione e queste istruzioni colpiscono tutti i contendenti da una parte dall'altra barricata e quindi alla fine la guerra la perdono tutti altro luogo comune che adesso discuteremo fare la guerra è un atto profondamente irrazionale ecco questa è una delle più sorenni cretinate che si a proposito della guerra la guerra è una scelta razionale razionalissima che non vuol dire che sia una scelta giusta che sia una scelta eticamente auspicabile che sia una scelta diciamo in qualche modo sempre azzeccata anzi più delle volte sbagliata certo ma non vuol dire che il decisore sia un pazzo questo è un po' l'immagine che noi abbiamo ricavato spiegando la seconda guerra mondiale con una presunta pazzia di hitler intanto sul tema della pazzia dopo farò qualche considerazione sestante ma guardate che anche quella fu una scelta razionale e vi dico di più che meno male che la guerra sia una scelta razionale perché se fosse davvero un atto di follia noi saremmo completamente disarmati non sapremmo come fermarla noi possiamo pensare di evitare alcune guerre qualche volta riesce perché interveniamo sulla razionalità degli attori se gli attori fossero tutti o anche solo uno completamente pazzi non ci sarebbe modo di intervenire noi possiamo anche intervenire per mitigare una guerra per ottenere dei risultati presupponendo un comportamento razionale perché nei confronti di un comportamento irrazionale non c'è previsione possibile e quindi non può esserci azione efficace possibile il punto qual è il che chi muove la guerra l'attore principale fa un calcolo o perché per esempio scatena la guerra nella previsione che gli altri lo facciano prima e cerca di conseguire un vantaggio decisivo all'inizio per esempio la guerra dei sei giorni con israele che rade al suolo tutte le aviazioni arabe quindi resta padrone dei cieli e quello gli consente di dare alle sue truppe una copertura aerea per la quale nel giro di sei giorni arriveranno al canale di Suez conquisteranno le alture del Golen e conquisteranno tutta la Cis Giordania volete dire che non è un calcolo razionale poi vabbè si apre la questione palestinese eh sì vabbè d'acconto ma è un altro fatto questo non vuol dire che il decisore israeliano sia stato colto da un atto di follia oppure la guerra è scatenata perché c'è il momento in cui una potenza ritiene che sia arrivato il suo grande momento adesso o mai più ad esempio è il caso della Germania nazista che facendo conto sulla rendevolezza delle democrazie occidentali così come si era manifestata un anno prima pensa per la Polonia si faranno un po di scena ma non interverranno scelta tutto sommato mica tanto irrazionale perché è perché Francia e Inghilterra si dichiareranno guerra alla Germania scusatemi però poi di fatto non faranno nessuna guerra per quasi un anno bisognerà aspettare maggio aprile e maggio quando la Germania aggredirà Norvegia, Danimarca, Belgio, Olanda e poi a giugno la Francia perché si comincia a muovere un po' il fronte occidentale poi le cose andranno come sapete però nel complesso l'idea che adesso mai più gli occidentali sono le democrazie occidentali non si muovono adesso riesco a fare il punto della vittoria poi non è andata così e per carità è stata una scelta altamente immorale non sto dicendo che fosse moralmente giusta però ha avuto una sua razionalità oppure puoi pensare che qualcuno si ritiene costretto a entrare in guerra per via della rete di accordi diplomatici la Russia si ritiene obbligata ad entrare in guerra a fianco della Serbia perché ritiene di dover onorare un suo impegno come potenza protettrice del mondo slavo e nel complesso riuscirà a distruggere quasi del tutto l'esercito austro-ungarico non fosse stato che perché la Germania entra in guerra a fianco dell'Austria-Ungheria per onorare il patto con l'Austria-Ungheria e mantenere certi equilibri di potere in Europa lì non potete dire che fosse una scelta irrazionale e anche quella dei tedeschi a suo modo ebbe una razionalità i francesi intervennero per effetto dell'intesa con i russi gli inglesi non sarebbero intervenuto se i tedeschi non avessero fatto l'errore brutale di aggredire il belgio per attaccare dall'alto la Francia e il belgio è un'invenzione dell'Inghilterra questo era insopportabile quindi anche gli inglesi vennero ecco c'è una situazione nella quale uno tira l'altro ma non puoi dire che siano atti irrazionali e quindi la guerra è sempre il prodotto di un calcolo razionale forse immorale forse sbagliato e quante volte sbagliato forse mal considerato mal calcolato ma non per questo puoi parlare di un gesto di follia secondo luogo comune che ho già evocato la guerra la perdono tutti altra scemenza solenne sì è vero la guerra costa perdite umane economiche di ogni genere e a tutti contendenti è ovvio però intanto in primo luogo sì tutti hanno delle perdite ma qualcuno le ha più di un altro e quell'altro la guerra la vince ora siccome la guerra si fa in funzione della pace di parla strano ma tutti i contendenti fanno la guerra avendo in mente qual è l'ordine di pace che si stabilirà dopo vogliono vincere la guerra per determinare un ordine mondiale come vogliono certo se all'inizio ciascuno sapesse a quali perdite va incontro molti ci penserebbero due volte se la Germania in tutti e due i casi avesse saputo che l'avrebbe perse le due guerre con quei prezzi saggezza avrebbe voluto che non muovesse guerra solo che tu non lo sai chi vincerà è perché il dio della guerra è il dio della nebbia non sai come andare a parte il fatto che poi ci sono perdite perdite gli americani nella seconda guerra mondiale hanno avuto perdite umane notevoli però intanto molto meno gravi di quelle che hanno avuto i russi tedeschi anche gli inglesi non hanno subito un bombardamento sul proprio territorio e alla fine si sono trovati leader del mondo occidentale e maggiore potenza mondiale potrete dirmi che è un calcolo cinico a parte il fatto che poi ancora una volta noi applichiamo il giudizio ex post a quello che doveva succedere ma in realtà non puoi dire che la guerra la perdono tutti gli stati uniti non l'hanno persa o no ehm il vietram il vietram ha avuto quasi un milione di morti che è stata una cosa però non puoi dire che la guerra l'ha persa perché dopo ha riunificato il paese lasciamo perdere il paese lasciamo perdere tutto il resto di fatto gli stati uniti che hanno avuto paradossalmente meno perdite 58 mila morti contro il quasi milione di morti del vietram fra nord vietram e vietcong e però gli americani l'hanno persa la guerra l'afghanistan non è che abbiamo avuto chissà quali grandi perdite di soldi quelli sì tanti mi hanno persi chissà in che tasche sono finiti vabbè lasciamo perdere però anche avendo avuto relativamente poco perdite hanno perso la guerra quindi no questo ragionamento che la guerra la perdono tutti perché tutti hanno delle perdite umane eccetera va bene per la predica di un parroco di campagna per carità ma non è vero ancora un altro luogo comune sulla guerra vuole che sempre ci si possa opporre alla guerra disertando i battaglia e campi di battaglia era quello che speravano i socialisti prima della prima guerra mondiale quando pensavano di proclamare lo sciopero generale e l'invito alla diserzione di massa per fermare il massacro non andò così non andò così perché lo sciopero generale non lo proclamò nessuno e non solo i tedeschi che disciplinati misero la divisa nel metto con il chiodo e andarono in guerra compresi anche i socialisti che non erano pochi ma anche in italia quanti furono quelli che disertarono per andare in svizzera quattro lati e mezzo la maggior parte degli italiani vestì il grigio verde e il partito socialisti italiano che era di quelli di estrema sinistra che partecipò alla riunione di zinverwald e poi di chiental contro la guerra dove trovarono in quattro gatti e mezzo in un momento proprio di slancio coraggioso dichiarò il non aderire non sabotare che non significava assolutamente niente cioè fate il servizio militare combattete quindi in realtà certo cosa è facile dirle è facile dirle ma poi ti voglio ma è non solo perché c'è la macchina repressiva statale che ti obbliga a vestire la divisa e a combattere ma perché scattano anche non ho detto solo anche una serie di meccanismi per cui bene o male è il tuo paese che in guerra e se il tuo paese che magari ci ha pure torto perché è quello che ha scatenato la guerra però dovesse perderla e poi il conto lo paghiamo tutti quanti insieme e quindi o è una persona ideologicamente molto salda per cui dice vabbè d'accordo paghiamo un prezzo però io non posso stare dalla parte di un paese aggressore ma quanti sono che quelli che ragionano in questi termini se non sbaglio in inglese si dice right or wrong is my country giusto sbagliato è la mia patria e la maggior parte pensa in questi termini per cui è tal qualche volta può anche andar bene ma insomma i risultati sono sempre piuttosto modesti anche perché c'è una cosa c'è il fatto che una delle scemenze ancora peggiori sulla guerra è quella per la quale in guerra hanno tutti che è un po' la parola d'ordine dei nostri coraggiosi pacifisti in questi giorni i quali sostanzialmente veniamo al sodo vorrebbero evitare la guerra a costo della libertà degli ucraini invitandoli ad arrendersi diciamolo papale papale ma non distinguere fra una guerra di aggressione una guerra di difesa è molto grave insomma la guerra non è la guerra sono una serie di comportamenti di fenomeni eccetera che descrivono la responsabilità dell'uno dell'altro non si può essere contro la guerra oddio i miei amici anarchici a cui voglio molto bene dentro la guerra perché perché sono contro lo stato ha una sua coerenza tutto questo non ha mai funzionato questo appello e loro stessi in alcune guerre si sono ritrovati a dover combattere con tante di divisa pensa la guerra civile spagnola che peraltro poi si risolse con una malissima guerra civile interna al campo repubblicano durante la guerra civile con i tranchisti ma comunque tendenzialmente non basta dirsi contro la guerra certo ci furono molti giovani durante la guerra del vietram che scapparono agli stati uniti per andare in canada per non fare il servizio militare ci furono italiani e francesi che si rifugiarono in svizzera durante la prima guerra mondiale sì va bene ok ma questo non ha mai influito sulla dinamica oggettiva dello scontro fra stati punto spiacevole a dirsi ma è così perché vedete un altro delle scemenze classiche sulla guerra dei luoghi comuni che si ripetono all'infinito è quello per cui se diciamo di no alla guerra la guerra si ferma mai fermata nessuna guerra certo la guerra ha bisogno di consenso e a un certo punto se manca il consenso un paese è costretto a ritirarsi e la Germania quando rimase sola a seguito della capitulazione dell'austria ungheria è ridotta proprio alla fame quella fame fame non potete far altro che arrendersi senza aver perso una sola battaglia sul campo la russia e la russia si ritirò dalla guerra quando collasso il fronte interno quando la gente compresi i soldati non ne potevano più ma tendenzialmente salvo questi momenti di crollo della resistenza psicologica di un paese tendenzialmente non è così la Germania ha combattuto fino all'ultimo minuto pure con i ragazzini della Hitlerjagen che continuavano a combattere sulla Hunter der Linden mentre i cararmati russi andavano avanti a tutta velocità ma io credo che anche gli inglesi se avessero perso avrebbero tenuto fede a quello che disse Churchill quando gli intimarono la resa e lui rispose continueremo a combattere anche quando vi vedremo marciare in piena Londra ci sono paesi che pensano in questi termini anzi devo dire la verità nella maggior parte dei casi i paesi pensano così semmai ti devi porre il problema del perché per arrivare al crollo psicologico di un paese ci devi mettere tanto e non basta che il paese sia in difficoltà certamente perderà la guerra certamente ha colpe niente da fare il paese non si scolla perché ogni paese si raccoglie intorno a un magnete che è il suo stato e ciascuno è disposto a credere alla propaganda del proprio stato piaccia o no ma il problema è questo che la gente crede a quello che vuol credere purtroppo è così ma secondo voi perché perché tanti credono in una balla cubitale come quella del negazionismo della Shoah ci credono perché non gli fa con non gli piace che ci sia stata quella guerra di sterminio e quindi reagiscono negandola l'uomo crede quello in cui vuol credere uno dei meccanismi è proprio questo è il meccanismo per il quale siccome appunto right or wrong is my country io credo alla propaganda del mio paese adesso oggi mi è capitato di sentirne una il povero Putin che poverino ormai siamo indotti a una certa pietà umana sui confronti nonostante sia quell'assassino che è per trovare una narrazione accettabile al perché ha scatenato questo cataclisma e non sapendo che cosa dire anche i suoi soldati costretti a sparare su un popolo che gli viene indicato come lo stesso popolo a cui appartiene il soldato guarda questo è il tuo popolo sparagli addosso questa si è un po' al limite allora pur di trovare una narrazione accettabile si è inventata la storia che l'Ucraina era sul punto di darsi la bomba atomica e allora prima che c'era ecco perché la fretta e la necessità di intervenire allora quando uno si riduce a queste balle vuol dire che sta messo proprio male vuol dire che si sta arrampicando sulle tende eh per e sui vetri per tentare di dare una giustificazione al suo comportamento perché la verità è questa la guerra ripeto è una scelta razionale però talvolta sbagliata e Putin ha fatto lasciamo perdere le questioni di ordine morale etico che figurati se possono funzionare con interlocutori di un certo tipo no figurati Putin è persona di totale amoralità no il punto è che ha fatto uno straordinario incalcolabile errore politico si è andato a cacciare in un guaio e ha cacciato il suo paese in questo guaio dal quale non sa conoscirne perché metti pure che riesca a occupare Kiev Odessa Kharkiv benissimo poi che te ne fai? eh sì perché non puoi essere così stupido da pensare che ti basta occupare queste città a parte il fatto che non le occupi esattamente nei prossimi giorni e che anche se dovessi entrare in questa città sarebbe una battaglia sanguinosissima stile Stalingrado con la gente che ti spara dietro gli angoli dalle finestre per cui un bagno di sangue che però tocca anche i tuoi non è solo sangue degli altri non solo ma con un esercito costretto a battersi in quelle condizioni senza motivazione reale ma ammesso è un concesso che ci riesca con 200.000 uomini un territorio quanto la Francia non lo controlli quindi la cosa più semplice è che anche se dovessi occupare persino la Galizia e non ci credo dovresti far fronte a una guerriglia che si trascina per un bel po' non solo nel frattempo devi fare i conti con le sanzioni perché guardate le sanzioni non riescono a impedire una guerra non sono mai riuscite in questo senso però possono tranquillamente segnare la rovina della Russia solo che questo non matura nel giro delle settimane che potrebbero servire a fermare una guerra intanto probabilmente è facile pensare che la Russia conoscerà in tempi relativamente brevi il default fallimento con un rublo che non varrà neanche per accendersi le sigarette sì i russi sono una popolazione di grande disciplina sociale hanno già dimostrato nel 98 di reggere condizioni di povertà estrema verissimo però nel 98 quel default fu il prodotto di debiti accumulati di vabbè scelte economiche disastrose ma adesso il default è il prodotto sciagurato di una guerra e delle sanzioni che si è tirata addosso e tutto il resto non lo so quanto il popolo russo possa accettare una cosa del genere fino a che punto quindi intanto c'è questa cosa se dovesse protrarsi questa è la paralisi tecnologica dell'industria russa certo non è una di quelle cose che si determinano nel giro di mesi probabilmente ci vorrebbe qualche anno due tre anni ma con di mezzo valanghe disoccupati fabbriche di smesse disastro che poi per rimetterti in piedi ora è evidente che in tutto questo Putin ha fatto dei conti sbagliati quindi una scelta lasciamo perdere su piano etico una scelta politica che è un errore di dimensioni catastrofiche perché hai sbagliato sulla resistenza degli ucraini perché hai sbagliato sul fatto che gli alleati europei si erano divisi dagli Stati Uniti e divisi tra di loro perché hai sbagliato sul fatto di non prevedere il generale la generale condanna dei paesi nel mondo anche quelli che sono astenuti sì vabbè si sono astenuti però non è che ti hanno votato a favore perché hai sbagliato a considerare che la Cina sia disposta a seguirti fino al sacrificio estremo figura quindi le hai sbagliate tutte hai sbagliato pure a considerare lo stato d'animo dei tuoi soldati adesso non sai come uscirne ti inventi questa balla perché perché è evidente che da un lato devi motivare i tuoi soldati dall'altro lato devi trovare una pezza di giustificazione di fronte al gruppo dirigente del tuo paese perché se viene fuori che hai scatenato questo cataclisma per nessun risultato e quelli ti fanno affette sottili proprio ti passano l'affettatrice ecco un esempio di una guerra che smentisce tutti questi luoghi comuni che dice no le guerre quando vengono si combattono e non c'è altro da fare certo ultimo luogo comune eh ma c'è la diplomazia guardate che gli ambasciatori non sono né Sant'Antonio da Padova né Sant'Arita da Cascia non fanno miracoli fanno trattative in cui offrono qualcosa in cambio e dobbiamo vedere cosa perché qui oltretutto io non so se Putin può accontentarsi di qualcosa e comunque qua non si vedono Zelensky ha fatto una proposta che scopre molto Putin perché ha detto vabbè su Donbass Crimea è nato pronti a trattare che vuoi e guardate che non c'è una risposta almeno finora al momento in cui sto registrando non è che ci sia un vabbè ragioniamo su queste tre cose Putin vuole tutto quindi in realtà guardate che quando ci sono le guerre la diplomazia non è una cosa diversa dalle armi no magari la diplomazia è l'altra faccia della moneta delle armi e armi e diplomazia procedono di pari passo toglietevi di mezzo questa scemenza della diplomazia che sostituisce il combattimento quando arrivi al cessate il fuoco già vuol dire che si è determinato un certo rapporto di forza ed è su quello che poi si ragiona e allora per piacere torniamo a ragionare di politica basta con i sogni ancora più basta con i luoghi comuni di pari di pari Grazie a tutti